no 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 simone no 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 simone no 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 e quindi salve siamo ancora ma siamo ancora e perché quel tipo il trailer quando sai che sta per iniziare tutto che tipo il teatro ancora buio quando si stanno ancora sedendo la tea esatto esatto tipo oh quel mona là in fondo e siediti che stiamo aspettando te allora se devi fare ognuno di noi alla sua è giunto quel momento un passo no così è troppo è troppo signori e signore e anche ovviamente chi non si considera nessun gander particolare quindi signore perché c'è il schwa ben tornati e benvenuti al l'hai detto tu eh l'hai detto tu salve stavo per dire l'uksasta del show perché stiamo editando l'uksastra giusto non è ufficiale era già nell'aria nel nell'aere 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 quindi abbiamo qua finalmente finalmente pasquale grazie pasquale grazie per essere venuto qui luca sbagliati l'uksastra è tutta chiara ma cosa c'è luca mi spento si potrebbe essere ma non avete nessuna prova per dimostrarlo perché luca non sbaglia mai quindi stavo dicendo stavo dicendo noi in intel abbiamo un sacco di di passatemi passatemi il termine etnie provenienti c'è chi è veneto c'è chi è milanese c'è chi pochissimi romano torinese però milanese uno è bellissimo andros anche gabrio in realtà abbe giusto che comunque si è vero c'ha parenti esteri ma però è nato qua seppur non diciamo nel nella milano milano appare gabrio se se vuole apparire ma andre ovviamente attenzione attenzione abbiamo il chi è rese beh no no non rubare il posto no 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 che è tutto zoomato apposta per sembrare più grande ciao papirini ciao pasquale come stai vuoi un po di medicina pasquale sicuro è buona tutto gobbo rincagnito già ti fa bene alla schiena normalmente salutiamo i disgustosi che sono arrivati direttamente ma buonasera buonasera ben arrivati già voto 10 dicono 10 benvenuti a tutti da adesso in poi io ho questa voce in tutto in tutto navigare ma noi l'abbiamo già registrata navigare non puoi andare non puoi retconnare questa cosa no 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 non è un retcon è un recast è stato recastato pasquale quindi d'ora in poi gian dovrà doppiare è pericolosissimo pasquale che parla ma è sappia o seppie sappia o seppie canon capasquale chi ha parlato comunque stavamo dicendo ho avuto un quasi lapsus che ricordiamo specialmente ai simone che ci seguono da casa non è quando ti dimentichi una cosa lapsus è quando dici una parola al posto di un'altra quindi ho avuto quasi un lapsus per dire il pre-show di Luxasta perché stiamo finalmente nel abbiamo cominciato ufficialmente perché adesso avevamo solo un po' guardicchiato le registrazioni adesso ufficialmente stiamo editando Luxasta Quarta Stazione io in questo momento ho cominciato il gruppo B e invece Simone il gruppo A e io sono già di là che faccio oh no adesso si è preso la parte divertente quindi senza fare spoiler secondo me ci è stata molta inversione inizialmente il gruppo B è riconoscibilissimo poi cambia mood e invece il gruppo A viceversa ma non siamo qui per parlare di Luxastra ma ben sì parlare dell'altra IP parlare di Pasquale che è bellissimo vediamo delle mie avventure nel mondo di Navigavia voi non avete idea ragazzi di cosa stiamo progettando per Pasquale arrosto arrosto allora diciamoci intanto ringraziamo ovviamente tutti i sub i follow che avete fatto sempre inizialmente anche un piccolo hype train che si sta aumentando stiamo già puntando a livello 3 dai ragazzi grazie mille ovviamente per tutte le cose che fate per noi grazie per i sub i follow e di seguirci anche sui social TikTok, YouTube, Instagram insomma c'è il Linktree poi adesso Guine sicuramente lo avrà già fatto copia in colla Pasquale puoi cantarci Guineee Guineee perfetto grazie Pasquale allora però ci sarebbe fare tipo degli episodi speciali con Pasquale come Dodoa ciao bambini prendiamo lo scatolone fischione oh no lo scatolone fischione grazie Vazkan per aver regalato rispondiamo subito a una domanda di Laura prego prego rispondo io ovviamente domanda a Luca ma la repubblica direttoriale di Rutenia è più simile all'impero russo pre rivoluzione d'inverno oppure a una simile unione sovietica? è più simile all'impero russo prima della rivoluzione d'ottobre? quindi sì questa è la risposta alla domanda era molto facile abbastanza diretta perché per un'altra regione ho copiato chiaramente il concept dell'unione sovietica ma ancora è tutto comunista se ci pensi è tutto si afflosciato mi piace Pasquale che per muovere le ali si deve afflosciare il colpo sì dobbiamo chiedere ragazzi di chi ha fatto chi ha fatto me chi mi ha fatto vabbè allora quando due quando papà gabbiano nooo Pasquale no lo sfintere no Pasquale sei incontinente cucciolo domanda per Luca che non ho avuto di farla a Modena ma in realtà di Acqueletto è più per Matt visto che l'aveva scritta lui all'epoca no 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 ci puoi dire in breve com'era la DDI di Navigavia? follia vero ah letteralmente la DDI di Navigavia era avventura sandbox se non ricordo male adesso metto che neanche me la ricordo bene ma doveva essere un'avventura sandbox con toni estremamente scansonati e comici cosa che effettivamente è rimasta tale quale anche un po' troppo manuale era già all'epoca se vensì e non ricordo e vabbè c'era un minimo di introduzione dell'ambiente il pianeta Tifone la Navigavia eccetera eccetera però era tutto ancora molto in in fase di sviluppo per il resto le particolarità di quello che volevo essere volevo fosse il progetto erano quelle c'era solo la questione dei diari di bordo che non abbiamo poi utilizzato esatto che era una sciocchezzola che non vi raccontiamo perché magari la ricicleremo per altro perché non era male allora giustamente Aidan arriva prepotente è bravo e dice quanto l'avete maltrattato per fargli affrosciare il collo ma è genetico non è vero mi dissocio dal maltrattamento ti chiedo scusa no 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 però è colpa di Giangelo no povero piccolo se Matushka ha toccato di vie sulle braccia Masquale dove ti ha toccato Matushka Andrei Lochev dove ha toccato John? non te lo ricordi eh non lo so non te lo ricordo buttate cicatrici addosso cazzo è vero non abbiamo mai avuto quel momento del raga c'ho qualche una di queste vi sembra una forma di animale? no perché ancora non lo sapevi quando hai mostrato cicatrici e cose nella nave non sapevi ancora il contatto però no nell'art perché poi dopo dell'art in Kilt non ci sono forme di animali c'ho tipo una forma di un'aquila gigante sulla schiena che noi non abbiamo visto perché l'arte è solo frontale vero ma temo che l'avrei lo scatolone ti schio no lo scatolone ti schio non aprirlo Pasquale è pericolosissimo temo che una voglia a forma di aquila gigante sulla schiena forse avrei dovuto descrivervela forse dipende dipende siori dungeon master che giustamente anche gianandrea adesso ma non c'è gian c'è solo Pasquale Pasquale non è più oh no Pasquandrea vedere navigare mi ha finalmente convinto a preparare una campagna da master bravo perché cosa ti ha spinto la follia la medicina di sicuro negli scorsi mesi ho studiato Emanuele del 7c e domani ho la prima sessione con i giocatori sono un sacco in ansia ma non vedo l'ora grazie per avermi fatto trovare questa nuova passione bravo ma ricordi che non c'è un modo giusto di masterare nel senso il tuo modo sarà quello giusto quindi non essere in ansia vedrai che andrà tutto benissimo perché sappi che quello che hai scritto non servirà a nulla io ho un consiglio dica dica Pasquale dottor Pasquale sempre qualunque cosa tu faccia l'importante è che ti devi divertire ti devi divertire anche voi amici altrimenti che gioco è? quindi non preoccuparti se sbagli giusto master giustissimo Pasquale sei un uccellino molto saggio però consigliano di prendere Pasquale a cucchiaio caso no in una dei live precedenti scusate stavo facendo una renda nel frattempo vi chiedo schiuma è stato detto che ci sarà un momento l'ho detto io in realtà dove Luca è stato cattivo con Bachto quando dovrebbe arrivare questo momento? io non lo so due tra due episodi oggi è il prossimo oggi è il 13 14 15 16 l'ultimo sì il 14 però la settimana prossima credo arrivi se non ricordo male credo anch'io la settimana prossima se non ricordo male è la settimana prossima credo anch'io intanto abbiamo avuto livello 5 di Ape Train grazie a tutti allora però c'è una domanda per Pasquale ultima come vanno le ginocchia ma adesso è un po' sono un po' frosh ma Modena è stato molto impegnativo ma è stato molto piacere incontrare tanti di voi e stare con voi e poter essere sto cacciato da Giulia perchè avete l'unica cosa che mi interessava era toccarmi ma no ricordatevi sempre che il consenso è importante mi raccomando bimbi ok detto questo Pasquale out ciao a tutti vabbè renderei comunque una roba fissa eh sì 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 ma anche che si addormenta così sì sì no dobbiamo veramente creare un albero azzurro e siamo la fe esatto ciao a tutti ragazzi buona continuazione di live ciao ciao buon lavoro grazie per aver allietato insieme con Pasquale buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio a lei dottor ingegner cavalier grande architetto gran cavalier Gianco si chiama ah già per i amici Gianco ho una domanda per voi ecco sono un DM novizio e sto masterando fuga dall'abisso ok strong per essere eh insomma inizio in gaina adesso i miei giocatori dovrebbero fare un viaggio di almeno 8 giorni di gioco come gestite come gestire i viaggi in D&D soprattutto per evitare di tirare ogni volta gli incontri casuali e far diventare il viaggio solo combattimenti eventualmente noiosi poi non lo so come rendere il percorso interessante ma allora in primis direi che non è obbligatorio fare gli incontri casuali puoi anche skipparlo tranquillamente per me ne parli col party perché gli incontri casuali diciamoci la verità sono solo per fare punti esperienze esatto a meno che non sia non ci sia un motivo specifico per cui vuoi aggiungere qualcosa anche a livello narrativo però allora secondo me opzione 1 lo skippi direttamente come diceva Luca parli con i player ok ragazzi cosa fate durante questi 8 giorni di viaggio questo e quest'altro perfetto ok passano gli 8 giorni di viaggio arrivate e i risultati delle vostre azioni sono x y z easy se no all'interno del viaggio ti stabilisci che ogni 3 ogni 4 giorni c'è un random encounter te lo tiri però stabilisci un numero determinato di incontri casuali e via per gli altri piuttosto stabilisci che il primo giorno tranquilli il secondo giorno tranquilli il terzo incontro non mercante poi random encounter poi chiacchiere chiacchiere e via così esatto da risolvi abbastanza in questa maniera qua poi vedi anche al tavolo come sta andando se vedi che è proprio un discorso combat 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 e la gente i giocatori stanno annoiando no schippa assurdo come sempre gioco di ruolo non annoiamento di ruolo se no a sto punto chiudete tutto andate a vedervi un film esatto anche lì tipo la questione roleplay i viaggi secondo me sono un ottimissimo momento per interagire le interazioni fra personaggi durante i viaggi secondo me sono le migliori perché hai tempo effettivamente è un momento in cui non puoi fare nulla se non chiacchierare o magari sferruzzare robe del genere ed è un buon momento per interagire però se i player hanno voglia cioè non mettere i player in una situazione del ok siete in una carrozza ruolate e diciamo i bei capelli ma sono un dragonide robe del genere ecco diciamo che mettono in difficoltà voi i player eccetera piuttosto veramente schippate tipo puoi anche fare uno skip a giorno cioè anziché schippare in una botta solo tutti i giorni fai ok giorno 1 cosa fate? io ho questo io ho questo e questo perfetto ok lo fate i risultati sono questi giorno 2 che fate? io vorrei interagire con Mirtillo e parlare di questo ok vai fate Mirtillo è morto appunto è il necromante che lo chiede ah andiamo avanti ma in navigare sono presenti tutte le magie manole di Seven Sea? no sono magie originali e le vedrete nei prossimi episodi molti ci sono legate a quelli di Seven Sea altre invece sono inventate per l'ambientazione cavolo mi sono appena immaginato un background bellissimo multiclasse ranger mago parte come ranger gli muore il pet diventa mago scuola necromante per farlo risuscitare e hai il pet non morto in navigavia o se muore John io ho sempre piano B eh è vero ma nella vita se nella vita reale c'è barba nera come pirata leggendario c'è un pirata leggendario del mondo in navigavia come barba nera? sì leggende all'interno dell'ambientazione in navigavia esattamente come nei pirati dei Caraibi sono molto presenti e come dice Rooney 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 no pensavo che si ah no pensavo che dovessi dire la battuta di Rooney no no dove si chiamava ah beh allora Rooney come dice il buon Rooney che è un fissato di queste cose qua infatti non puoi mai prendere sotto gamba io amo Rooney per questo perché Rooney è un Matt nel mondo di navigare oggettivamente beh ma senza andare troppo in là come esiste la Queen Storm come esiste il Grillo Mannaro esistono anche eventuali barba nera e Drake e via discorrendo Francis Drake si chiamava non mi ricordo sì era Francis Drake no? non Nathan però un altro no Nathan sono un po' indietro con la chat ovviamente leggo Rooney e il Guine di Navigavia sì ragazzi assolutamente sì ma il Lemis Zaza regala degli abbonamenti che me li ero persi qualche minuto fa grazie oh ma grazie che bene i due bardi sono bardi anche nella realtà beh non sono partiti qua quindi non possiamo ufficialmente confermare ma sì Miguel canta vi consiglio di guardare il suo canale Miguel Velasquez in cui ci sono caricate tutte le canzoni di Navigavia e non solo e anche Leo ha fatto tutti gli studi musicali e anche Leo ha gli studi musicali seppur da un bel po' che mi sembra di aver capito che non fa niente no non attivamente però insomma effettivamente anche lui è un bardolo Pasquale è a Luxastra? beh c'è un suo parente in questa quarta stagione come vi sappiamo sì ho capito ho capito bene 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 non gli fa male la gola a Gian parlare così? spero per lui di no no perché Gian comunque ragazzi è un professionista e ha allenato a fare queste cose certo se lo facesse per tre ore tanto a posto non starebbe però è come uno stuntman cioè gli stuntman quando li vedi fanno le robe pazze dici ma non si fanno male? no perché sanno come fare quelle cose stessa cosa a Gian Andrea allora Kvaku che non so mai come si legge si dice in merito al risposto che ho dato prima sulla repubblica direttorale di Lutenia ok da come ne parla Oliviai sembra più simile all'URSS leninista che è la Russia pressovietica mi sembra di aver capito diversamente parlare di schiavi legalizzati e monarchi infami sembra più una repubblica socialista che ha avuto successo che una monarchia assolutista arretrata e stagnante allora in generale non si possono paragonare al 100% cose del nostro mondo con quelle di un altro mondo beh certo non avrebbe senso infatti io più di una volta ho descritto sia i giocatori che a voi che il dominio Audax è un po' come il concetto dell'impero romano come se non fosse accaduto ma non è esattamente l'impero romano la repubblica direttorale di Lutenia che ricordiamo bisogna dire al tuo intero se no non si capisce che se oggi repubblica direttorale non capisci e no come Luca Cordero di Montezemolo eh esatto non si gira se no no The Daddy per forza esatto io prima ho detto si è pre-sovietica ma perché c'è fatto che non c'è il concetto del popolo come l'Unione Sovietica da noi ok quando poi eventualmente si andrà a navigare verso la repubblica direttorale di Lutenia scoprirete quali sono le similitudini con la Russia pre-sovietica è ovvio non c'è lo zar no certo c'è un direttorato che è una tecnocrazia quindi è diverso dal pre-comunismo ma com'è diverso anche dal zarismo senza considerare che c'è da aggiungere che appunto essendoci direttori ci sono anche immagino perché poi questa è una delle sottotrame che ha creato esclusivamente Luca però facilmente immagino che essendoci direttori ci sono anche varie correnti di pensiero quindi immagino che ci saranno i direttori quelli più conservatori che tentano di accentrare il potere più sui direttori di tenere tutto più militarizzato eccetera ci saranno altri direttori invece più improntati sull'equità del popolo ovvero non c'è differenza fra direttore e cittadino come effettivamente è Oliviai quello che semplicemente la pubblica direttorale di Rutenia è una nazione relativamente giovane e quindi forse deve ancora capire qual è il modo giusto per governare Diplomazia ecco quello non è il modo giusto per governare perché hanno lo sport nazionale e il pugilato senza arena mi preoccupa questa è una cosa che ha aggiunto Nicola beh 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 domanda a Matt nel post show dell'episodio 10 con estrema precisione manca solo il minuto io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato stamattina eh ma non ti preoccupare te lo ricordo avevi detto che stavi imparando Queen Storm a memoria per cantarla da ubriaco a che punto sei? eh eh ragazzi me la ricordo da ubriaco non da sobrio ha senso ha senso cioè sto facendo un allenamento per ricordarmela esclusivamente solo quando sono ubriaco esatto esatto quindi ora in poi il mio alcol test sarà Matt Queen Storm si inizia a cantare sono sbronzo me lo segno allora in merito alla domanda che risponde ma perché andiamo sempre nel merito? perché mi piace meritarmela ah perfetto sono meritocratico potrebbe servire anche ai giocatori a fare esperienza a coordinarsi nel combattimento di Gipo 95 che suppongo parlasse degli incontri casuali eccetera sì effettivamente se i giocatori non hanno un buon team nel senso che ognuno fa quel cazzo che vuole mi sembra di aver già sentito questo vabbè allora sì fai incontri casuali e faremo in modo di aumentare la la sinergia la sinergia la sinergia non so perché mi viene in mente l'aritmetica non so forse magari in ungheresa se ci fosse del genere wow matemagica albero azzurro con Pasquale doppiato da Gianandrea e Luca vestito da Orso Serghei per me sì però non comprerò io questo costume costa troppo mmm non farò comprare da loro perché potrebbe finire molto male sì effettivamente c'è ragione chiedono se Simone è giù a festeggiare per la Roma perché cosa è successo alla Roma? non ha vinto il Milan l'altro giorno c'era Milano intasata scusate allora allora che cavoli sono veramente indietro con la chat perché leggiamo troppe cose ci soffermiamo a parlare è vero a elucubrare a discutere quindi in season 2 vengo a ruolarlo io dice Guine sì perché no? sì ti aspettiamo eh allora io posso avere un tassoniglio accetto esatto io stavo giusto per dire io ragazzi dopo aver avuto questo bellissimo Pasquale pretendo anche un tassoniglio a questo punto eh mi sembra al minimo allora chiedono ma esiste una mappa dei continenti nel mondo di Navigavia? sì e no cioè c'è una io abbozzata non definita che pian piano sto limando a destra e sinistra quindi ni diciamo che serve più a me per capire più o meno dove sono le cose ma non la sto ancora non la stiamo ancora pubblicando perché non siamo cioè non sono sicuro che sia ancora pronta però sì più che altro c'è da pensarla in funzione del lungo termine eh sì esatto però adesso abbiamo sì tipo Ruteni è qui Jack Cook è qui aspetta ma abbiamo altre mille robe da inserire eh beh esattamente così esattamente così anche perché tecnicamente Guine Guine dice la verità in realtà la Repubblica Direttoriale di Ruteni è uno stato comportamenti diverso da come lo scrive Oliviai che dice solo vaccate per darsi un tono è plausibile 50 e 50 50 e 50 che poi c'è un dettaglio che secondo me è interessantissimo ovvero la questione è menzogna ma se Oliviai crede veramente tanto ad una vaccata che dice esatto non sta mentendo eh esatto perché lui è la verità infatti allora più di una volta Oliviai o Nicola hanno mentito però allora il mentire è un concetto ovviamente che varia da persona a persona ok quindi io ti posso dire una cosa però se io ti dico ad esempio ah sì sto bevendo del whisky non ti sto mentendo sto facendo una battuta sto facendo un concetto è acqua ragazzi acqua acqua non si vede no 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 eh lo so me la sono andata a cercare era inevitabile è inevitabile era inevitabile guarda sai con cosa potrei asciugarla? con questo schermo del master oh mio dio ma quello è lo schermo del master del kickstarter Luca occhi esatto che non è assolutamente utilizzabile per asciugare tavoli di nessun tipo perché è lucido guardate quanto è lucido è lucido che bellissimo ha pure le scritte signori oh mio dio ma quelle sono delle scritte ma sono per caso le regole? no sono l'ore di ipsum vuoto cioè voi pensavate davvero che io mi sarei messo a scrivere le roba ma infatti ma guarda ma guarda qua c'è scritto Andros che bello che è finchia tutto così sì Andros che bello è con l'hashtag dobbiamo direci la verità sappiamo io so te so Luca e so te di nuovo perché siete tanti quindi te 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 tutti quanti sapete che questo è fottutamente plausibile quindi non avrete la sicurezza di cosa c'è scritto finchè non vi arriverà un secondo solo mando un messaggio no 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 ne approfitto intanto per dirvi fate conto anche che al presente il mondo di navigauga che appunto si chiama tifone noi in verità ne conosciamo tipo un ottavo mappato perché al di sotto dell'equatore ho scritto una cosa guine che doveva sapere al di sotto dell'equatore si sa poco un cazzo si conoscono giusto un paio di isolette ma perché al di là dell'equatore è un casino attraversare per tutta la questione della rete che questa fittissima palude e che molto difficile attraversare e tutto l'emisfero invece di sopra l'emisfero nord non è stato ancora circunnavigato completamente perché ogni volta si trova un'isoletta si capisce bene cosa è l'isoletta ok andiamo in isoletta dopo e questa diciamo che sta ancora venendo abbracciato il mondo esatto esatto c'è una domanda generica sul GDR qualche consiglio per una persona che la prima volta in cui giocherà un GDR farà il Dungeon Master e GT Benem è regolamento esatto cerca di fare in modo di sapere quantomeno in maniera buona le regole non so se sarai tu perché non hai effettivamente detto sono io però questa persona di sapere le regole quantomeno in maniera buona in modo da non incepparsi ogni 3 minuti per controllare poi è ovvio che succederà però quantomeno sai cosa la parte fondamentale di leggere un manuale ragazzi non è tanto però la memoria cioè ad esempio io DnD raga non mi ricordo le cose memoria ma mi ricordo le pagine tipo che cazzo ne so una delle cose più rottura di palle è il multiclasse c'ha questa pagina 163 e la pagina 165 iniziano i talenti queste sono le robe che più migliorano magari metti dei post-it di quelli colorati con scritto di fianco la pagina giusta o ancora meglio scriviti sui post-it un riassuntino delle regole su cui sei più vacillante perché a parte che scrivere ragazzi anche nello studio aiuta sempre è molto più utile riscrivere quello che state studiando piuttosto che imparare la pappagallo primo secondo se ti fai post-itini con i riassunti delle regole eccetera te li puoi attaccare allo schermo del master e li ritrovi molto più facilmente se poi prendi dei post-it quelli tutti colorati come faccio io e ogni colore lo associa a un argomento tipo fight post-it rossi abilità post-it blu cazzo ne so roba di equipaggiamento post-it verdi eccetera eccetera molto utile così allora rispondo velocissimamente una domanda che è già più o meno già stata fatta se esiste una mappa di tifone è in working progress arriverà ma in merito a questa domanda qua domanda per Matt hai scelto il nome tifone per il mondo di navigavi ispirandoti al dio greco oppure hai scelto l'hai scelto in relazione alle tempeste in relazione alle tempeste in relazione alle tempeste poi in verità sono vere entrambe cioè diciamo che il primo concetto è stato il dio dei oceani no aspetta tifone no che cazzo era tifone non mi ricordo che senso tifone era dio della ah nella di nella mitologia sì sì adesso mi cogli un attimo è preparato ricordo tutto comunque inizialmente era quello poi mi son detto no però è più interessante per la questione delle tempeste proprio perché poi è titano dicono ma anche a me mi ricordava di sembrare che fossero un titano adesso ma vabbè non volevo dire cazzate no può essere ammetto che non mi ricordo in questo momento ma il punto è visto che anche la teocrazia di santo oceano santo oceano diventa santo proprio perché salva il mondo da questa poderosa tempesta io mi ero immaginato un mondo ispirandomi più a oddio quel film di fantascienza interstellar quando arrivano sul pianeta fatto totalmente d'acqua ecco io mi ero inizialmente figurato un mondo tempestoso tipo quello che poi nel corso dei millenni si è un attimo calmato fra virgolette facendo emergere le isole eccetera però c'è un'energia che comunque ogni tanto sprigiona queste grandi onde queste grandi tempeste eccetera eccetera e tra l'altro la questione del noi conosciamo un ottavo e tutto è fondamentalmente dovuto alla questione sandbox ovvero io ti propongo una mappa comunque già fitta di robe eccetera ma abbiamo tutta una parte grigia ancora da esplorare proprio per il fattore sandbox in cui si può arrivare a dire ok ragazzi cosa volete fare io voglio quest'isola nuova ok navigatela scoprite cioè volevamo anche mantenere questo fattore di poter scoprire qualcosa di nuovo proprio arrivare su un'isola vergine dire raga cazzo noi siamo i primi forse o comunque civilizzati a mettere piede su quest'isola chissà che misteri nasconde quindi potrebbero esserci bestie potrebbero esserci un'intera nuova civiltà da conoscere io già mi ero immaginato una meccanica in cui bisogna capire il linguaggio e tutto quanto perché ad esempio a ricordi logica la mia abilità linguista che io parlo tutte le lingue possibili e immaginabili è ovvio che se arriviamo in un'isola vergine mai toccata prima e arriva questo popolo che parla una lingua totalmente aliena linguista non ha senso che mi funzioni anche in quel caso magari mi può favorire a capire a trovare la chiave di lettura però sarebbe esageratamente rotto che io improvvisamente capisco tutto quanto chiedono cosa intendevi per sandbox che è una terminologia in realtà più da videogioco però più da videogioco giustamente no allora un gdr sandbox è semplicemente io scrivo una trama orizzontale che si sviluppa e va avanti ma poi sono i giocatori a stabilire la rotta quindi vuoi andare in quell'isola vuoi andare in quell'altra vuoi andare dritto vuoi nuotare puoi fare quello che vuoi cioè a differenza di Luxastra dove dall'inizio alla fine so cosa dovrò far fare ai giocatori per farli arrivare a succo navigavia voleva essere l'esatto opposto quindi un dove vai trovi le storie io ho tante piccoli gioiellini ho tante piccole storie da raccontarti in ogni isola dove vai sblocchi quella quindi potresti giocarti prima una poi l'altra e man mano che vai avanti ovviamente anche la trama orizzontale si sviluppa con esso ovvio che dopo un tot di missioni dopo un tot di tempo la trama orizzontale va ad una sua chiusa positiva o negativa dipende poi anche da quanto i giocatori si sono incrociati con questa trama orizzontale o meno perché la trama orizzontale in un sandbox potrebbe anche iniziare svolgersi e terminare senza assolutamente che venga mai incrociato ai giocatori i giocatori potrebbero fare tutta la loro avventura senza mai neanche per sbaglio individuare il villain che ti hai riscritto e robe del genere lui fa le sue robe non c'era il mondo verrà distrutto loro non sapranno perché esatto può essere cosa che succederebbe nella realtà cosa ne sai tu che in questo preciso momento non c'è qualcuno che sta combattendo gli alieni a sui monti appalacchi per la salvezza del mondo magari finita questa live veniamo white party da battermi atomiche di alieni perché ha perso meanwhile Putin da il classico pulsante rosso lancia razzi quel di fianco al pulsante rosso finisci la guerra ah pensavo caffè anche comunque non ridiamo non scherziamo anche tu però perdonami allora qual è la nazione più scarsa di navigavia potere d'esercito risorse eccetera eccetera allora non si è parlato di tutte le varie nazioni che sono state pensate per navigavia così su due piedi di quelle che avete visto come pubblico beh sicuramente è la torre delle catene si è primitivo esatto quindi però molto tribale il fatto che non è una vera e propria nazione vera e propria cioè ha il suo concetto di di governo ma si però è molto libero è molto tribale appunto però cioè ok loro effettivamente a livello tecnologico stanno a zero però a livello di conoscenza dei mari invece sono beh ma qua si parla appunto di potere militare cosa che aveva scritto potere d'esercito risorse eccetera risorse volendo ne hanno perché tra i coralli e tutto anche solo jungkook che tira sull'immondizia così via però è lo sfruttare che è diverso ecco forse il più scarso effettivamente è proprio concettualmente jungkook perché perché loro come dire arrivano da una situazione in cui hanno una determinata idea di sfruttamento delle risorse e gestione militare e sono in una situazione in cui non hanno ne uno nell'altro e devono arrangiarsi mentre la tollo delle catene hanno un'idea di gestione delle dell'esercito e delle risorse è totalmente differente che invece è giusto per loro secondo te quanto assorbe questo qua cos'è quello? è un pezzo di green screen ah ma c'è solo un modo per scoprirlo dottor Occhi no non mi sembra una buona idea se non puoi usare uno di quei libri tanto no mi sembra ancora una pessima idea allora domanda ai due masters of the universe come posso gestire del giocatore un altro giocatore novizio tra l'altro che ad ogni mia azione dice lo posso picchiare premettendo che non sono il più grande giocatore del mondo allora in primis secondo me è una roba del genere ma gesta anche da col master eh onestamente perché se un giocatore ogni volta dice lo posso picchiare lo posso picchiare a un certo punto gli metti davanti un drago picchialo no secondo me ovvio che sto andando per sì sì no secondo me intende proprio da play cioè nel senso ogni volta che il giocatore parla non gli NPC mi sa che intendeva farglielo capire in game sicuramente è la prima cosa che farei sì e poi out of game e nel senso di chiaramente ma ho capito che il tuo personaggio vuole picchiare tutti però no più che altro tenta di capire questo accadimento a cosa è dovuto cioè magari tu non lo sai ma nel background del personaggio di questo c'è scritto che odia il tuo personaggio per n motivo non lo so cioè chiedi se è una cosa dovuta a boh lui che lo reputa divertente oppure se c'è una coerenza logica e di lore perché se c'è una coerenza logica di lore allora ti dico giocatela daga dal personaggio magari salta fuori che nel suo background da piccolo è stato rapito da dai nani di cui tu fai parte e quindi adesso odia tutti quei nani per dire una cazzata se no se accanimento personale digli ciccio non mi diverte minimamente esatto semplicemente ma senza cattivera dirgli proprio non lo trovo divertente anzi lo trovo frustrante e fastidioso domanda extra mi chiedono che i microfoni le avalie usate ma usiamo dei rado microfoni della Rode adesso non mi ricordo il codice preciso comunque Rode è una buona marca Rode Rode nella seconda stagione di Navigavia per Matt domanda per Matt secondo se muore qualcuno chi è il primo no aspetta un attimo allora suppongo che sia nella seconda stagione secondo te ah chi è il primo a morire nella seconda stagione non so perché questa secondo me Kyla perché al suono di far rissa prima o poi ti becchio una pistoletata in faccia secondo me è più probabile Bakht onestamente Bakht è sopravvissuto fino adesso eh appunto è sopravvissuto fino adesso da solo non c'eravamo noi esatto secondo me il che bello zaino è molto bello guardate che bello zaino io ancora sai che non l'ho neanche ma che bei lacci ma guarda come sono resistenti questi sono proprio resistenti questi lacci devo aprirli giusto sì sì devo aprirli ma se io volessi collegarci qualcosa tipo usb si potrebbe fare ma certo ho detto nooo ma sono non era necessario slacciarli allora ah non erano no hanno la clip è magnetico no no è magnetico allora non dovevo slacciarlo ma sono più belli di quelle che pensavamo no ma quindi poi e beh no allora non ha senso slacciare ecco perfetto guarda è magnético ma è bellissimo è bellissimo tra l'altro che cazzo di magnete e soprattutto dentro c'ha un praticissimo usb voilà questo cavetto che poi si attacca qui è una prolunga usb è una prolunga usb che tu attacchi da una parte e poi dall'altra cioè qua attacchi tipo la batteria portatile che ti metti qua poi il cavo lo srotoli quindi tu immaginati hai il tuo bello zaino e tu hai spalla no? qua c'hai la batteria portatile guarda qui da giovane eh? cioè sono troppo già giovane sono appena uscito dal 98 cazzo cappellino all'indietro certo la sketch poi fammi vedere ma quanto spazio oh mio dio ma cosa c'è in quel po- aaaaaaah c'è lo spazio per il pc? da quanti posti? beh sì eh prendi il portatile prendi il portatile il nostro portatile il nostro portatile è da x pollici da... non lo so no non ho idea no 20 no sicuro sarà da... secondo me da 15 quello lì 15 o 16 perché comunque lo schermo è grande ah bello guarda il codice magari c'è un codice eh no tutte le cose sono state... le hai tolte tutte tutte però penso che ci stia sì ci sarà che ci sta uh 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 mi due due uh balla pure allora sicuramente c'è... ah tra l'altro dentro c'ha pure il divisore il taschino divisore comodissimo per dividere tipo fogli robe eccetera eccetera esatto questo è un ottimo zaino per portarsi i manuali tra l'altro tasche 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 bello 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 mi piace 10 ci sta matt nell'alimento eh insomma allora... ragazzi vi dovrò dire la verità il matt 18enne e ci sarebbe stato il matt quasi trentenne no eh vabbè vabbè eh la vita c'è già Michael che dice ma quello zaino dà proprio al caso mio eh sì eh sì ma è il caso di tutti questo zaino esatto 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 e già che ci sono potrei andare a prendere un po' d'acqua e metterla in una borraccia ma sono arrivate eh? no però ormai in questione ah beh allora... beh 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 arrivo subito intrattieni intanto dell'acqua grazie dell'acqua lascio te l'acqua intanto allora sì ma io sono rimasto... fermi fermi io sono rimasto con la chat che è là in fondo sono cieco non ci leggo ma la medicina Matt... la medicina è di là non ho voglia di prenderla quel momento imbarazzante dove sei da solo con l'amico del tuo amico eh... e allora Pasquale eh... Kaila è Kaila è simpaticissima Kaila la signora che mi parlava ma io non ero mutato quindi... ah ok non ti ho prego l'acqua l'ho dimenticata no no eh vabbè niente continuerò a bere coca allora niente ma che bella borraccia che hai lì signor Occhi allora sono da prendere un po' di cose allora perché so che vi piacciono a voi italiani italiani ma dove trovo lo zaino? l'hai messo tutto lì a posto scherzi a parte eh... sullo shop di fantasia ovviamente tutto quello che vedete sullo shop di fantasia nostro partner in cui vi diamo cose utili perché noi non creiamo cose ma solide realtà totalmente inutili quindi cosa abbiamo qua? abbiamo la borraccia so che voi non aspettate altro la borraccia questo è il prototipo perché fino a prova contraria sono ancora ferme in Polonia ancora? beh la settimana scorsa e non sono ancora arrivate ma arriveranno molto presto guardate quanto belline queste borraccine eh che hanno pure hanno pure il filtro cioè il filtro per il tè belle quasi quanto quello di di venti nation quello è borraccia eh questa è una borraccia è una borraccia ah dici con il loghino stampato sul bambù con scritto intale esatto questa è una borraccia per panda ragazzi e per chi eh questi qua c'erano già a Modena si c'erano già e per chi invece non è stato a Modena ci sono anche i portapenze i portapenne che voi potete usare come diavolo volete esatto ah si è vero ne autografate ne abbiamo autografate lo sai che io vado vado per step questo è in vero cuoio di cuoio cuoio di di marmo esatto scherzi a parte ecco pelle non che non sia che ci dicono che siamo dei cacciatori di pelle ecco ci mancherebbe altro non siamo dei cacciari eh che senso scusa non so quindi ma ti pare che io di quello che dico più o meno l'ottanta per cento sono parole a caso che mi escono dalla bocca è un po' anche una percentuale ottimista e sono tipo incontinente ma dalla bocca domanda a Matt si qua devi rispondere non casualmente qual è l'episodio dove hai performato di più anche tra quelli non usciti l'ultimo 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 cazzo c'ha quella scena lì è l'ultimo o il penultimo no no l'ultimo 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 va bene allora ci sono un tot di scene che mi sono piaciute un sacco allora parlando seriamente John mi è piaciuto un sacco da giocare proprio mi ha mi ha dato genuinamente soddisfazione e nell'ultimo episodio c'è quella scena sul cornicione per intenderci capirete 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 cazzo quella rivedendola ovviamente ho detto cazzo avrei potuto dire così dire cosa la musica funziona bene cazzo ho visto ho detto bello bello migliorabile a livello proprio contenutistico di battute ma è stata una scena in cui c'è stato un feeling e l'ho trovato veramente soddisfacente però ci sono state un sacco di scene che dico wow bello mi è piaciuto ma anche degli altri tipo varie combo Giulia Nicola e mi è piaciuto un sacco il feeling che si è creato qua si parlava proprio della tua performance ah no mia performance personale no allora sicuramente quella scena è topica poi magari nel post show se a Miguel si dovrebbe collegare Nicola dovrebbe arrivare Giulia anche quindi magari rifacciamo la domanda poi dopo anche se è più una domanda da post show dell'ultimo episodio si esatto parlare di determinate cose non è che voi non avete ancora visto un po' è meh quel portapene dice Vazcan io lo uso come porta tabacco così a ogni sigaretta mi rileggo i vostri autografi vero è vero che funziona anche come quello verissimo bello tra l'altro ed è impermeabile perché se faccio così non cambia assolutamente nulla ah certo ed è idrorepellente impermeabile ed è idrorepellente allora allora domanda per i master come affrontare un master god che non fa altro che rivisitare i background dei pg per riadattare la sua storia che fa il railroading per lo stesso motivo tra avvianti giocatori e allo stesso tempo la trama principale ma io direi uno che scrivo un libro sì quello poi era il 6 la seconda ah ok uno è parlategli che non vi piace sì due non state a quel tavolo no fatti cioè perché non è un gioco di ruolo questo no è un libro ditegli oh cioè poi magari la storia spero che almeno quello vi stia piacendo ma su questo non lo so però se è così ditegli oh scriviti il tuo libro cioè nel senso non una cosa ecco piccolo momento un po' critico cioè critica sociale che magari aiuta beh effettivamente è una critica alla società del gdr una cosa che veramente mal sopporto sono quei master che usano la scusa del master per raccontare le loro storie fregandosene del loro ruolo perché alla fine un master non è il dio no il master è il servo del fato colui che infatti io dico sempre che il master in realtà è più un regista sì sì esatto che un vero proprio dio è letteralmente una ruspice deve leggere i segni del destino i segni dei dati cioè se ci pensate il ruolo del master ha un che cos'è? una ruspa ah la ruspice giusto giusto questa me la segno e la userò contro di te astardo e non abbiamo in previsione niente da fare allo stesso tavolo secondo te vabbè mi impegnerò finché succeda qualcosa e quindi appunto se ci pensate il master è quanto più di mistico cioè per noi adesso è normalizzato ma noi siamo letteralmente delle persone sedute a un tavolo che devono creare una narrazione leggendo i segni del destino nei dadi cioè è una roba fottutamente mistica da druido e o da stregone e quindi appunto potremmo fare un gioco di ruolo in quel posto dei dadi ci sono i fegati degli uccelli allora forse allora se vuoi io ho pensato un regolamento con le rune in una live ma stiamo andando addirittura nel concept iniziale di guardare ah dicevo guarda penso che il peta potrebbe essere non d'accordo però pensi però penso però potremmo fare dei peluche dei peluche apribili bella idea questa sai che no non iranicamente ma è una bella idea cazzo non rubatecela aspetta tipo è not the end 2.0 in base all'organo che peschi c'è una roba o un'altra andiamo avanti yugara dobbiamo spegnere yugara vieni che dobbiamo parlare tutto fatto all'uccinetto eh però è come yoshi no yoshi wally ward uguale sì 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 è bellissimo fiabe di stoffa basta questo è il momento brainstorming che io metto abbiamo troppe volte e perdiamo un sacco di tempo ultimamente in verità sono molto triste che è vero non abbiamo tempo di farlo sono molto triste ciao matt sono davide il prestigiatore illusionista oh grande ha fatto un effetto al play ha fatto un trucco fichissimo c'ero io c'era che c'era io sara giù no giù ah no giusto giusto mi spiace di avervi visto dopo ma eravate in procinto di partire volevo ringraziarvi per la disponibilità ma grazie a te ehm vabbè niente volevo sdebitarmi a modo mio per quello che fate ultima cosa alla fine non essendoci visti è rimasto in sospeso nell'ultima carta da firmare è un effetto dedicato al master di Luxasta e quello di Navigavia next time prossima fiera allora assolutamente ci farai il la prestidigitazione anche a noi sono appena arrivato quindi la prima stagione di Navigavia è arrivata al termine no manca scusa oggi è il 13 al 16 mancano 3 episodi al 16 finisce al 16 anche se Giulia ha detto che esiste un diciottesimo episodio si vabbè oggi Giulia è tirato fuori vabbè ma si vedeva che c'era qualcosa sugli occhi si si ma il vento il vento era era un effetto di Instagram intendiamoci eh male lingue domanda per Matt ti piaciuto di più il dialogo con Stinger o con Queen? con Stinger direi si 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 beh top dialogo quello con Marco Pisellonio quello è stato domanda per entrambi è un amico che sta iniziando a fare il master ma gli piace fare il buffone e spesso rovina i movimenti ha detto a sua lui vorrebbe fare il serio ma il suo animo a giudare vince sempre più che spiegarglielo che si può fare qua mi prendo la palla al balzo perchè io sono molto più in linea con questo master perchè poi vedo che i giocatori non lo sono e io sono il primo a dare corda ai giocatori e Navigavia scusa Navigavia Armored Soul più o meno tutto quello che ho fatto c'aveva molti momenti in cui io mi sarei strappato i capelli del motivo per cui non ne ho più praticamente il problema qua è riuscire a entrare nel mood intorno al tavolo ok se il master non riesce voi come giocatori dovete cercare di passatemi il termine obbligarlo rimanendo sempre seri cioè non perchè giustamente il comico si autoalimenta quella comicità una battuta porta un'altra battuta e così via se invece sin da subito ma magari in maniera anche un po' all'inizio estrema poi ovviamente molto più più easy gli si dice no meglio non rovinare il momento secondo me dopo un po' vedrai che riuscirà a rialinearsi con la serietà del gioco poi è anche vero che se voi state giocando a un gioco ultra serio alla Lovecraft eccetera lì rovina praticamente sempre il momento se invece stai giocando a un Seven Sea o un'altra cosa che comunque è scanzonata allora lì è più difficile bloccare il momento comico te cosa hai da dire in merito bellissimo consiglio sono d'accordissimo con quanto detto no io in verità cioè secondo me quello che ha detto Luca è la prima soluzione ed è anche la più interessante io sarei andato invece su una soluzione più che aggira il problema in realtà che non lo risolve ovvero perché in paranoiarsi secondo me il problema sta alla base ovvero fare la DDI preparare un gioco che premi questa sua ilarità quindi fare proprio una giocata fuori di testa super scanzonata come può essere Navi Gabbia come può essere cyberpunk come può essere cyberpunk che in realtà ha tutte le sue meccaniche belle pesanti eccetera però cyberpunk secondo me si presta molto a essere delirante io ho questa idea di fare tipo paura e delirio a Las Vegas versione cyberpunk sarebbe una follia incredibile bellissima da giocare quindi ti direi a questo tuo amico piuttosto che impelagarti in una giocata che non sai bene come gestire buttati proprio strappa via al collare e unchain buttati al 100% in una giocata dove invece viene premiata questa questa locura poi ovvio la risposta è però metti io non voglio la locura io vorrei riuscire a giocare qualcosa di serio allora torniamo al consiglio di Luca che invece vede questo come un problema e lo risolve in questo modo diciamo che sono due facce della stessa medaglia uno ti dice questo non è un problema devi trovare il gioco giusto l'altro dice invece ok questo è non è un problema comunque però è una cosa che puoi aggiustare per fare in modo di andare avanti su questo gioco domanda per i master io gioco una campagna io gioco in una campagna l'ultima mia giocata in vita reale il live action mentre io parlavo con un NPC gli altri miei amici mi davano fastidio loro vogliono perlopiù combattere che parlare e invece a me piace tanto parlare dice meglio anime eh bella bella rottura di scato allora la DD è stata fatta? esatto perché a questo punto qua ti vengo da chiedere se tutti gli altri giocatori vogliono fare un hack slash cioè combattere combattere non vogliono parlare sono i giocatori o i personaggi e soprattutto in realtà a livello di numero mi viene da dire chi è nel posto sbagliato al momento sbagliato perché magari semplicemente sei finito nel gruppo di gioco sbagliato esatto perché se su sei giocatori cinque vogliono hack slash e uno vuole ruolare eh c'è poco da convincerli esatto allora perché saresti tu che dovresti forzare altri cinque a giocare a quello che vuoi te se già la situazione è tipo su sei quattro vogliono vogliono ruolare due invece vogliono anche slash quello è già una roba più discutibile in cui ok ragazzi fermi un attimo parliamone parliamone tutto e via una cosa non impedisce l'altra no esatto poi anche lì sta molto al master nel momento in cui c'è un punto di rottura del genere un buon master si direbbe ok facciamo così oggi abbiamo quattro ore da giocare perfetto allora facciamo un'oretta a chiacchiere un'ora combat un'oretta a chiacchiere un'ora combat cioè autobilla senza dichiararlo così apertamente ovviamente ma farsi in mente una serie di clock una serie di orologi che gli fa dire ok allora adesso gli lascio parlare finchè clic scatta questo evento bom botte così bel ping pong mia moglie ti fa sapere che ha visto degli amigurumi che sono i pupazzetti eccetera di organi interni umani chiara è fatta e tu che a qualche parte li ha visti non sa dove chiara facciamolo facciamolo chiara scusa mi sembra che abbiamo davanti un concept della madonna realizziamolo la stagione di navigavia finisce nell'episodio 3 dopo è tutto un sogno di Bacto perché di Bacto nello specifico poi? non ho assolutamente idea in cucina dice quale animale del mondo di navigavia vi ha affascinato di più? allora qui io metto le mani avanti perché su determinate cose non è nemmeno aggiornato Matt eh no fatti perché come avete potuto notare specialmente dal titolo dell'episodio di oggi che di cui dobbiamo raccontare la lore se ti ricordi ok ho voluto lo dico chiaramente scopiazzare perché non è un reato scopiazzare il concept di base degli animali all'interno dei avatar giusto? miniatore dell'aria cioè creare animali che siano fusioni da due animali insieme che poi non è scopiazzare ma è solo dire ok questo è un concetto che funziona esatto perché mi divertiva il fatto di vedere animali fusi uno con l'altro ok? e insieme con il buon Zo Sparkle sto lavorando ad alcune cose che vedrete prossimamente aspetta il coinvolgimento di Willy mi è nuovo è nuovo nuovo non te l'avevo detto ma avevi detto che ma mi piacerebbe ma non sapevo che fosse si è ufficializzato ah si è ufficializzato ah no no non ero aggiornato sull'ufficializzazione eh no probabilmente magari era una giornata in guerri fuori no perché io l'altro qualche settimana fa avevo sentito Willy per chiedergli se fosse vera la leggenda dei castori che si strappano le palle davanti ai predatori c'è questa leggenda secondo allora i testicoli dei castori producono una sostanza dolciastra so perché hai quattro minuti no questa sostanza dolciastra con cui fanno anche dei come che si dice in in ambito di cucina delle robe per imitare i sapori sostanzialmente si vabbè tipo spezzi no spezzi vabbè comunque robe del genere viene usato in quel modo aromi dico si non era aromi che cercavo vabbè comunque viene usato per robe del genere e quindi quando i predatori arrivano dai castori i castori convinti che li stiano predando per questa sostanza che se c'erano dei testicoli si troncano via le palle con un morso li sputano addosso per distrarli e scappano io mi sono sempre figurato tipo il lupo che arriva vede il castoro il castoro oh no mi vuole mangiare crunch e il lupo tipo beh effettivamente se fosse vero poi non li ricrescono e no ma è una one shot ho capito quindi se poi due giorni dopo arriva il lupo e vabbè e vabbè comunque dopo questa simpatica parentesi il polpolupo il polpolupo prego quella mattina di quella sessione quindi non è assolutamente scriptata questa cosa perché sembra impossibile ma noi non scriptiamo anzi vedete in navigavia è follia pura io arrivo e dico stamattina Enrico ha inventato un nuovo animale e gli racconto la storia del polpolupo e quindi poi l'ho messa in sessione come è successo anche per i pesci siluro è vero è vero naturale di Leonardo Bruno esatto e quindi il polpolupo è un animale di cui ancora non abbiamo una descrizione ufficiale ma l'ha inventata Chicco esatto quindi comincia già a delinearsi chiaramente il Kid's Tale eh ma ragazzi quello è storia in divenire io lo dico comunque la gente si chiede se è vera o no la leggenda sui castori no allora hai scritto a Willy che non ti ha detto niente di dirgli Willy che mi ha bloccato no no Willy mi ha detto che non aveva sentito questa cosa che si informava che effettivamente lo sappiamo che i pesci siluro esistono però li ho aggiunti in navigare per triggerare Leonardo che fanno molto ridere e mi ha detto effettivamente esistono tipo delle favole delle robe eccetera però ha detto che sarebbe informato per capire questa cosa e poi ovviamente non ti ha più risposto eh no vabbè ma poverino esatto comunque siamo ormai in procinto di arrivare finalmente alla premiere delle pizze di Oteici nella bocca del polpolupo se non sbaglio esatto e in questi episodi ci danno cose interessanti cose belle cose brutte cose così così e soprattutto delirio vabbè ma questo ormai è canon avete già visto il trailer per chi non avesse visto il trailer non spoiler neanche il trailer perché il buon Gabriel che sta facendo l'editing dei trailer sceglie determinate frasi apposta perché sa che il nostro pubblico a bocca potrebbero assumerlo alle iene assolutamente assolutamente lo farebbe perché così almeno lo pagherebbe sì esatto va bene e vabbè ragazzi allora noi ci vediamo più tardi nel post show come al solito vi ricordiamo non chiudete Twitch lasciatelo aperto mutato e con la risoluzione al minimo così vi occupa meno banda possibile così nel frattempo noi mandiamo un po' di pubblicità e che ci fa comodo poi passa direttamente su YouTube dove sta per iniziare la premiere del tredicesimo episodio però appunto in bocca al polpolupo e poi torniamo qui per il post show che durerà un'oretta come al solito porco il demonio mi sono ah ancora un qualcosa lì caccato è tornata Giulia c'è Giulia yeee e niente F e vabbè no no era lì appoggiato e sì Pasquale c'è Pasquale ci ha fatto uno ospite vi auguriamo buona visione ci vediamo tra circa un'ora e 23 minuti circa ok qua sul canale Twitch di Intel bye bye ciao signori ma soprattutto signore anche ovviamente chi non si identifica nessun grande particolare come ormai avete imparato a riconoscere l'introduzione del pre-show e ovviamente anche il post show di Navigavia e siamo qua in compagnia di me che questa è un'ottima compagnia il buon Nicola De Gobbis Matt che sta mangiando lo yogurt Miguel Velasquez che sta chiacchierando con se stesso e le sue altre 75 personalità e la carinissima Giulia che lei invece è normale carinissima Giulia e così qua siamo arrivati e allora metto Twitch che vediamo le domande è la personalità col cappello è la personalità con i pantaloni quello con la giacca tipo così quello con la giacca? sì ma hai cambiato cappello Miguel ancora? è un'altra personalità allora mi confermate che dal pubblico sentite tutto e tutti? ah 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 sì sì dimmi qua Pasquale ora si sente bene sì dice il buon Guine persona del quale io mi fido guarda praticamente questo qua si chiama affetto grazie per i follow e i sub ovviamente questo è l'affetto allora è un giochino ma non è ma si chiama maltrattamento di animali non è un giochino è una cosa terribile sei una persona disgustosa se fai così ma non deve essere mai la giustificazione mi scusi signorina ma addirittura disgusto allora no avevo delle domandine per leo una sciarpa? un urridge? ma ci va veramente freddo di là? volevo solo dire una cosa Matt Matt si pronti comandi volevo solo dirti che qui davanti a me è ancora bagnato non l'ho asciugato ho paura perché quelli non l'ho asciugato ma perché ha fatto il cretino no ancora peggio stai dicendo delle cose terribili dicono che Giulia ha il microfono spento può essere non può essere Simone per favore Simone sei al telefono o no? si ok arrivo subito può essere che leggo intanto una domanda evidenziata vai comunque faccio davvero anzi una domanda un'affermazione comunque faccio davvero un complimentone a Luca per la puntata ogni tanto ci sta a sfogarsi con i giocatori no no capisco no cioè non no scusami la shot qua che cazzo mi sono io scusi ah ok domanda a Luca al party quanto vi devo adorare per una sequenza d'azione che mi ha esaltato come poche cose davvero complimenti e non è ancora finita io non ci stavo capendo un brazzo ad essere sincero è ancora finita cioè non è nulla eh questa è bella domanda per Miguel ci sono tablature o pentagrammi per le canzoni scritte per Navigavia? perché parli così Giulia? perché sto diventando pian piano sempre più cieca scusa vuoi mettere non so come si fa come cazzo si mette più grande sta chat perché si ingrandisce il video e non la chat? ah era così facile madonna che boomer che sei quasi quanto me era così facile no ma ci vedo comunque male ma sì perché è piccolo mettiamolo nel mezzo mettiamolo qua Pasqua perché devo morire Pasqua ma è comunque piccolo rispondiamo alla domanda che stanno ma non ci posso credere mi manca la risposta si mise a riempire le cartucce e sopra la polvere mio padre compedeva i tamponi grassi è un regime sbagliato oggi non è giornata fra quattro giorni sarà San Michele meglio di tutto col tram e a piedi raggiungemo la strada delle nostre vacanze non è giornata non è giornata ok dove eravamo arrivati ma Sergei è un wookie sia per l'intelligenza che per i versi di quando lo interpreti? no è un orso cioè cazzo è disegnato come un orso gli parlo in orsese ha la pelliccia si muove a quattro zampe ha una è un orso è un cazzo di orso è un orso non è un pene di orso è un orso è un cazzo di orso va bene prima ho letto rispondiamo alla domanda del pentagramma con Miguel la tablatura e il pentagramma allora ragazzi a breve arriveranno sui canali di Dario Rodighiero e su quello di Sal delle versioni strumentali delle canzoni che abbiamo fatto per Navigavia quindi le troverete anche le tablature a un certo punto quindi quindi stiamo parlando delle versioni karaoke praticamente non karaoke ma cantabili si non saranno qui che sono quelle bruttissime Miguel io ho un sogno avere un sogno no di sogni ne ho troppi solo che sono irrealizzabili allora Miguel tu devi farmi questa cosa io voglio gli accordi per ukulele della sigla di Navigavia ah no problem fubuki chiede se può farci le cover sopra posso avere anche la roba dell'ukulele grazie Miguel si ti mando tutto prossimamente io l'ho fatta in fiera col kazoo bellissima era bello il kazoo bellissimo allora c'è una domanda non posso dire nulla perché il villain ha picchiato così tanto Kyla allora io so il perché ma non mi ricordo se viene fuori l'inizio del prossimo o di questo non me lo ricordo io mi dico il perché lato master perché Kyla fa dei danni allucinanti quindi prima la butti giù meglio eh ma credo che credo che lo voglio sapere all'interno ah perché l'avrò smerdato tipo può essere gli ho detto qualcosa che non dovevo dire perché è il figlio dell'ambasciatrice ma chi? la vecchia ma chi? no? ma chi è il figlio dell'ambasciatrice che poi la vecchia è come ma no ma l'ha già detto di chi è il figlio ma era una battuta c'è il figlio no 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 guarda adesso curiosità da ignorante riguardando il manuale quindi qua anche Nicola ovviamente ecco ovviamente anche Nicola come se si ricordasse qualcosa questo è facile come funzionano i punti vita? quanti ne hanno i pg e quanti circa i nemici? facile eh 20 hanno 5 ispirali della morte in realtà 21 perché c'è una scheda una scheda qua ma qua non ce l'ho allora i giocatori hanno 4 punti ferita normali quanto ferita è una ferita critica ogni volta che si raggiunge una ferita critica che si ottiene appunto al raggiungimento delle 4 ferite o coi colpi di pistola che si può raggiungere anche prima si hanno prima dei bonus per se stessi questo è figo no? perché più ti fai male più arrivi fino all'ultimo e vuoi dargli di tutto più dai dei bonus anche ai nemici quando arrivi all'ultimo punto ferita che è l'ultima spirale della morte e quindi l'ultima ferita critica il GM può spendere un punto pericolo per ucciderti vuol dire io spendo un punto pericolo per ucciderti per evitare questo un altro giocatore si può mettere in mezzo spendere tutti i propri incrementi ed evitare che venga ucciso esatto invece i punti ferita dei nemici hanno anche loro la spirale della morte però non ne hanno 4 più una ferita critica 4 una ferita critica ma dipende dal loro valore di malvagità ovviamente capite che un boss finale non può avere 4 ferite perché un duellante incazzato può fare una marea di ferite volendo quindi si va a a sommare ad avere tot ferite normali e poi la ferita critica che sono sempre 5 nel mio grande boss di fine campagna ne aveva 280 di ferite boss proprio totale la mia campagna di 7-6 vabbè poi a un certo livello cominci a lanciare 30 dadi esatto nel senso perché poi c'è quando hai 4 cose ogni 15 vale 2 incrementi quindi comunque vorrei specificare che molti volevano gli accordi per l'Ukulele l'hanno scritto moltissimi molte persone quindi i gal servono gli accordi ukulele sigla Navigavia è proprio una di quelle cose che viene fatta continuamente è necessaria Luca è necessaria è necessaria è necessaria intanto io non so nemmeno come sono male vi condivido i link dei ragazzi così li motiviamo a produrre queste cose vi arrivano a breve un calcio allora c'è una domanda in realtà che ho provato a leggere ma non l'abbiamo capito quindi la rileggerò ad altavoce magari forse sono io che ho 3 cervelli scalda il cervello esatto non so se potrete rispondermi ma quelli del Fedora hanno capito che volevano denunciare Panama perché il tizio senza un occhio li ha spiati o hanno capito che volevano togliere le bombe da Marcus e di conseguenza sono stati loro ad assumere Felicia? Fedora Panama è una merda anche il Fedora è una merda no il Fedora non tutti quelli del Fedora sono una merda però Panama è una merda però Panama è una merda quindi Panama Panama è da uccidere merita di essere ucciso basta ma questo è Nicola o Oliviai che parla? o Nicola o Oliviai no Oliviai no no però aspetta però Oliviai sa che Panama fa gli esperimenti? sì quindi Serghei stacca braccio ma quello è già successo quindi Serghei stacca braccio dai quello che si merita nel senso tu fai esperimenti sulle persone io faccio esperimenti su di te allora scusa io vorrei parlare di una cosa brutto stronzo io sì perché ci sto pensare adesso mi è venuto in mente solo adesso sono scoperto ritardato sono bello ok ti ricordi quando abbiamo rullato la scena quella della barca no? che bello tutto col piano quelle cose che lo stronzo ha usato un punto pericolo c'è io scendo dalla barca è rimasto molto male ma scusa eh ma mi scusa no ma perché eravamo tutti esaltati io non ero esaltata io non sapevo che cosa stava succedendo eri esaltato solo tu certo perché eri esaltato tu hai detto eri esaltato Miguel io faccio questo 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 ero ero ok era bellissimo però dopo hai diventato esaltato ho pensato che bello c'è che ci lanciano con l'orso c'è c'è sopra come si chiamava la merda c'era la merda Tevive 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 Massif c'era Massif che in realtà era Canu era Canu di Mortal Kombat c'era Massif c'è bellissimo adesso ti facciamo un culo mentre siamo in aria già mi immaginavo lo scontro con la nave che vola con la luna gigante dietro in aria lanciarlo giù e il Master me l'avrò usato e noi poi che poi eravamo sulla cazzo di barca volata diciamo però vero è che ci dovevi pensare cioè potevamo pensarci effettivamente però posso dire una cosa almeno due incrementi per fare sta cosa eh c'è almeno due incrementi poteva usarli chiedono di Pasquale hai sbagliato hai sbagliato ma comunque non si tiene così domanda che credo sia verso Matt ovviamente perché visto che viene viene coinvolto nella domanda esiste il comitato organizzativo legale burocratico anticrimini contro l'oligarchia rinominato col bacco l'hanno proposto l'altro giorno in chat e secondo me ci sta molto ha un senso ha assolutamente senso ha molto senso ha molto senso ci stiamo lavorando le faremo sapere probabilmente un lapsus mio che ma mi ricordavo che quando l'iviai si è trasformato per una volta in Pasquale riusciva a parlare nella lingua umana mentre in questa puntata non riusciva a farsi capire ripeto probabilmente è un errore mio non parlavo nella lingua umana anzi l'avevo anche detto però dice Giulia però tu senti esatto sì esatto quindi non hai visto la puntata attentamente è rewatch forzato di tutte attenzione ha detto probabilmente è un errore mio perché si era dimenticato di questo ammesso vedi infatti come ammetti sempre tu i tuoi errori io li ammetti ma Leo può usare la voce come incantesimi perché si è concentrato sull'istrarlo e non a cantare eh chi lo sa se lo scoprirete a breve chi lo sa chi lo sa chi lo sa chi lo sa ma dov'è Pasquale? qua qua è qua è un po' ovunque qui no qui c'è il microfono qui c'è Pasquale bene che ti sa in cucina Pasquale eh sta molto bene in questo cappello sta bene in questo cappello sì dai così siamo il proprio personaggio di un anime un anime economico ciopper giusto servono i capelli più ma alla fine Pasquale è vivo Pasquale è sempre con me esatto adesso in questo momento tipo durante il combattimento è nella sacca vabbè no non è nella sacca però può non essere completamente idiota e magari non è nella sacca ma è volatino un attimo via sì certo e dopo torna è un asciugamano bagnato si vedi è letteralmente fatto con un asciugamano è anche stato un genio eh sì Nadia incredibile grazie Nadia mi hai fatto molto ridere Giamma dici che sembri Sabo di One Piece non ho idea di chi sia è vero ha ragione Sabo ecco che è bravo bravo Giamma guardando ricordiamo che Navigavia in realtà è servita come ispirazione a Eciroda che ha tornato indietro nel tempo sì 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 vero vero fa molto attacco on titan sta cosa domanda Giulia ma non potevi usare Pasquale come scudo? ma io ti denuncio ma perché? ma perché dovrei usare sta cosa inutile come scudo? che cosa mi para? ma nulla ti para che cazzo mi para? scusa mi pare basta ho solo una cosa da dire prima di sparire Kyla in costume che semena con un NPC stronzo ma abbastanza gnocco nuova estetic effettivamente ci sono i kink le persone hanno vari kink le piace cari scusami ragazzi entai con i personaggi di Navigavia ho detto tutto ma guarda secondo me tipo sarebbe stato peggio per Bacto essere cioè fare a botte con quel personaggio lì secondo me non si sarebbe avvicinato sì cioè tipo se arrivava con tesoro no 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 che poi che poi la scena la scena in cui spara spara massif nelle palle mi ha ricordato mi ha ricordato pal fiction e quindi mi aspettavo la scena dopo in cui se lo bombava vabbè si lo bombava questa è terminologia tecnica proprio scientifica k.a. educazione per contino e che cazzo ah sì 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 a proposito k.a.k.a. Nicola ha avuto delle sue spie ah sì che giustamente non ha voluto denunziare no ma non ho potuto denunziare perché mi ha mandato i video su instagram e quindi dopo scompaiono con k.a. e zettone che cantavano ieri sera ieri sera avete fatto un concertino con questo microfono qui con quel microfono lì sì e e avete fatto ovviamente tutte le canzoni di Narigavia i pop selvaggio sì esatto no ieri sera abbiamo fatto abbiamo fatto del sunno rap abbiamo praticamente rifatto le tinte al locale ma hai dovuto di dire per scusare era tutto rosso nel senso che abbiamo che abbiamo spaccato è andata bene vuol dire molto figo bello suona in una boy band insomma suona in una boy band sì comunque c'è stata sì questo abbiamo fatto questo live che noi non suonavamo io non suonavo live da tre anni e ragazzi è stato come tornare a vivere davvero è figo eh bello cioè è figo è figo di bestia sì vedrei mi mancava tantissimo sì esatto proprio è tutta un'altra cosa è un po' come quando io adesso io ne ho uno dei discorsi che ho affrontato più volte io di mio non riesco a giocare di ruolo via webcam io non ce la faccio cioè non è che non c'è qualcosa che non quadra non riesco a essere a mio agio ma non posso dirti scusami e abbiamo parlato un sacco di volte assieme di questa cosa qua secondo me è tutta una questione di gruppo guarda io ho sempre giocato per necessità mi ricordo che ancora prima che ci fosse Twitch altre cose facevamo le live su YouTube ti parlo di primi anni del 2010 2012 giù di lì no? infatti ho un account di Roll20 vecchissimo ce l'ho tipo migliaia di ore su Roll20 e mi faceva cagare con la pandemia eh specialmente quella la brutta brutta quando non si poteva buttare il naso fuori casa che ero felicissimo di aver ottone solo per andare a prendere una boccata d'aria mentre faceva pipì ne abbiamo fatto necessità virtù no? perché comunque oltre da un punto di vista puramente ludico cioè il gioco di ruolo è anche lavoro per me no? quindi c'è devo provare i giochi e ehm abbiamo trovato degli elementi della community in games comunque tanti magari studenti universitari tanti che erano fuori casa che giocavano veramente dalla mattina alla sera abbiamo fatto la niscord abbiamo trovato quattro ho trovato quattro persone eh con cui mi trovo con un'alchimia pazzesca tanto che è come giocare al tavolo cioè non ci parliamo sopra eh conosciamo bene i nostri ritmi eh tutti bravissimi master e bravissimi giocatori al contempo quindi ci variamo molto adesso stiamo facendo leggendo i cinque anelli stiamo preparando un altro stiamo preparando Oscuro Essential per fare l'oscuro tre ore della notte stiamo preparando una campagna di fabula e penso che con loro giocherò per tantissimi anni ormai comunque che si può tornare a giocare al tavolo sono parecchi mesi noi lunedì sera facciamo sempre la campagna in Heat Games però un martedì gioco con Mino e gli altri ragazzi delle Olimpiadi quelli con cui ho la casa a Lucca ormai da decine d'anni e gioco online ormai da tanto anche prima della pandemia e adesso con questo altro gruppo nuovo il mercoledì o il giovedì e sinceramente mi trovo bene come non mi sono trovato con gruppi affiatissimi che eravamo al tavolo secondo me è proprio una questione di gruppo perché a me non c'è non vedo l'ora che sia la sessione non me ne frega un cacchio che sia sulla webcam e questo prima non c'è prima dici vabbè posso giocare solo così gioco così invece adesso anche con all bear con i props con le token con la musica ma infatti una cosa che dico sempre io è che è una roba mia nel senso è ovvio che essere va varia da persona a persona allora ti faccio una domanda al volo Nicola cosa ne pensa di rddr come diminutivo della repubblica direttorale di rutenia rddr io la trovo inaccettabile o dici repubblica direttorale di rutenia infatti c'è niente ma è così facile la repubblica direttorale di rutenia infatti è questa qua l'acronimo poi la gente non capisce rddr sembra che sia un emendamento misto a un droide di star wars no è la repubblica direttorale di rutenia cosa faccio sono il direttore della rddr no sono un direttore della repubblica direttorale di rutenia un possibile direttore in quanto rappresentante della repubblica direttorale di rutenia sono un direttore dr io basta ne ho avuto abbastanza ho avuto la mia dose in gioco sto posto così non capisco io ero qua che vi fissavo dove cazzo stanno andando comunque vorrei leggere effettivamente una una affermazione in realtà perché non è una domanda di ma è nick sneak che effettivamente è una cosa che ho portato anche in tavolo durante questo episodio episodio fantastico scena davvero perfetta ma faccio comunque il bastardo e pignolo non ho apprezzato il momento in cui Nicola barra balenottera ha interagito con i pg è vero che poi avete detto che la discussione è venuta fuori dall'acqua ma forse senza qual meta avreste fatto altre azioni sott'acqua narrativamente molto figo ma tecnicamente impreciso tutto qui vi avrete detto che siete fantastici come al solito vorrei portare un po' al tavolo la discussione del del metagame però non necessariamente il metagame sbagliato nel senso quello che dice non è sbagliato eh dal suo punto di vista perché ovviamente se io ti avessi detto no Nicola tutti questi ragionamenti qua tu non puoi dirli al party avrebbe senso cioè che da balenottera con loro dentro non potevi farlo quindi di conseguenza dopo aver sentito tutti i loro discorsi in maniera muta forse avresti pensato ad altre cose quando fossi tornato in forma umana secondo te quanto incide diciamo quanto poteva incidere in questo specifico caso questa cosa che abbiamo fatto allora secondo me ci sono due cose la domanda ovviamente anche per Giulia mette due cose da analizzare secondo me parlo da giocatore è molto figo per il teatro della mente perché di questo si parla quando magari c'è non so a me capita ogni tanto dirà ragazzi anche se perché non facciamo questo cioè è fighissimo e te lo immagini un po' quello che è successo adesso cioè mi prendi in bocca faccio le cose andiamo d'altra parte c'è invece le regole per come sono no tu sei il tuo personaggio gli altri non è che se io penso qualcosa Giulia mi sente mentre sto pensando adesso dico a Giulia che sembra bellissimo se da nulla lanciasse il cappello in faccia a Luca no in teoria nel nel mondo reale dovrebbe essere così cioè io penso qualcosa uno mi sente e fa quindi a me piace quando ho un'idea che secondo me può essere divertente bella spettacolare raccontarla al party poi dici no dico che cazzo questo qua è metagame non farlo oppure dici sì dai facciamo questa roba qua forse anche perché dalla mia posso anche dire sto giocando molto a Favola Ultima dove invece il metagame è un po' uno dei cuori del gioco no? perché mi dirai io faccio questo tu fai quello dall'altra parte Navigavia è show è spettacolo quindi è figo fare cose fighe mi era venuta in mente questa idea qua l'ho detta al party e sinceramente è capitato anche altre volte ma che sono state tagliate ma tutti noi diciamo facciamo un troppo qua no guarda è metagame non facciamo così ognuno fa quello che vuole perfetto cioè può capitare ha ragione quello dice Nicky Nick abbiamo fatto metagame però è un metagame che porta al divertimento che porta alla spettacolizzazione che comunque è il motivo per cui si gioca di ruolo quindi io personalmente faccio metagame cosa non faccio metagame? se un giocatore sa perfettamente che in un luogo c'è una trappola perché prima faccio la descrizione la vedevi e lì c'è l'altro giocatore che non c'è oh attento lì c'è una trappola no lì non devi dirlo ha ragione è metagame però c'è metagame è metagame cioè alla fine la parola sta neanche tanto al master quanto ovviamente al master c'è qualcosa che cambia totalmente la storia ma al gruppo cioè c'è sempre ogni tanto vedi su quel personaggio io dico no dobbiamo fare così e facciamolo no il mio era una proposta che tranquillamente anche a livello di eh bravura dei giocatori a livello anche di esperienze dei giocatori potete altrimenti dirmi si facciamolo oppure no non facciamolo quindi è stata un pochettino decisione del party che hanno colto sul giuramento di un giocatore gli altri gli altri Pasquale Paolo ci sono anche Michele e Matt dell'altro mi guardavi scusa eh io comunque penso che c'è anche soltanto il nel senso una roba del genere è figa da fare perché porta avanti una narrazione poi dipende che cosa vogliamo giocare immagino che ci sia una dichiarazione di intenti all'inizio di tutto questo però anche soltanto il stai dicendo delle cose bellissime no dicevo però anche soltanto il scusami noi stiamo per partire stiamo per iniziare un combattimento anche soltanto il dire ok dai raga magari facciamo questo tu fai quello non è tipo è la stessa cosa più o meno solo che non sei all'interno del gioco ma te lo stai dicendo ok raga facciamo sta cosa ma all'inizio di molti combattimenti comunque metagame passatemi il termine lo facciamo tutti lo abbiamo fatto perché quando inizia un combattimento solitamente inizia un combattimento bene facciamo facciamo però solitamente molte volte inizia un combattimento ma noi siamo lì e stiamo dicendo ok raga mettiamoci un attimino in schiera mettiamo un attimino che cosa dobbiamo fare tu magari fai quello a me piacerebbe fare questo per o anche durante i combattimenti raga vorrei fare questa combo mi piacerebbe fare questa combo perché non puoi pretendere che comunque magari un'altra persona capisca quello che tu vuoi fare no no cioè ok figo spettacolare tu fai una cosa e quell'altro adesso lo stupisco e mi allaccio alla sua combo specialmente in un sistema di gioco come Seven Sea che è spettacolare Matt Miguel? Matt ma io sono dell'idea che sì nel senso quello che ha detto Nico e che ha detto Giulio è tutto corretto come anche corretta o il muovere questa critica cioè nel senso quello è stato un momento in cui stavamo realmente giocando al cento per cento forse naviga via e la giocata in cui facciamo più mente leggera sostanzialmente su cui ci preoccupiamo meno dello show e più del nostro divertimento infatti quello è stato proprio un momento in cui eravamo totalmente presi dall'indagine stavamo facendo brainstorming eccetera e quindi secondo me è lecito giocare come abbiamo giocato noi altrettanto lecito muoverci il il dubbio del boh io non avrei fatto così ci sta ragazzi ma perché noi non ci poniamo mai in una situazione di insegnamento cioè noi non vogliamo insegnarvi come si fa il gioco di ruolo noi vogliamo solo farvi vedere come giochiamo noi se poi a voi non piace il nostro metodo di gioco ok allora fate il vostro che è altrettanto corretto perché comunque non c'è mai un modo corretto di giocare c'è solo un modo corretto di divertirsi ovvero tutti insieme scusa Matt sei estremamente preciso è tutto ma vedere in questo momento Nicola che ha dato un taglierino in mano a Pasquale mi sta un po' distraendo lo accetto Matt mi ucciderà Pietro non puoi ti accoltellare nel sonno ti accoltella ti accoltella sicuro io gli apro la casa e tu metti a coltella prendimi ancora una volta per il collo ti sfido non parla Pasquale è tutto Nicola ormai basta un poco mi lascio di nuovo i capelli Miguel avevi qualcosa da aggiungere in merito? sì guarda in realtà Matt ha detto una cosa assolutamente che condivido beh come tutti in realtà sul fatto che eravamo veramente dentro alla storia in quel momento lì e eravamo veramente lì cercando di capire cosa stesse succedendo e come fare per evitare un casino sul fatto del metagame e del gioco io credo che qui si stia costruendo una storia più che cioè non è una gara a chi rispetta il gioco non è una performance di misurata una gara appunto di gioco di ruolo si sta costruendo una storia e secondo me in quel momento si stava costruendo proprio un momento narrativo cioè una chiave di volta quasi e quindi era normale che è vero sì Nico era trasformato in balenottera ma sì era bello partecipare tutti insieme e cercare di risolvere quell'enigma quindi la storia secondo me batte gioco di ruolo ecco questo è quello che come la vivo io ecco visto che hai già la parola c'è una domanda per te ma il capitano della Queen Storm sei lontano della nave puoi evocare la nave cantando la canzone della nave? allora ragazzi io vi faccio una domanda per un attimo ho rivisto la paresi facciale facciale certo io vi faccio una domanda cari amici che seguite Navigavia ma che cosa l'intermezzo ma scusa lo spot adesso adesso faccio sempre faccio sempre l'intermezzo tra l'altro ho inventato un motivetto bellissimo ma dopo ve lo faccio sentire bellissimo la domanda è la domanda è perché c'è un flauto? ma la Queen Storm ma la Queen Storm è una nave? non so non so fa la domanda ma non dà la risposta quindi sei come Marzullo che come Marzullo questo uomo no ma è tipo l'avvocato di Amber Heard ok ma l'avvocato fai la domanda no la domanda sul serio è la Queen Storm è veramente una nave? oppure no non so se è una scoreggia a remi dimmelo che così c'è tutte le preoccupazioni di Navigavia se si tranquillizzano subito cioè ma lasciamola lì questo Queen Storm è una domanda seria ragazzi no ma noi non sappiamo la risposta ovviamente appunto se non è se vi do la risposta e vi faccio la domanda tanto vale che vi faccio la domanda se vi do la risposta ma lei è come Marzullo ma si vergogni allora stacco stacco guarda quanto ho messo la pausa apposta per fare in modo che sentisse questa minchiata stacos13 ci chiede come utilizzate i dadi per avere gli incrementi più precisamente io li lecco li lecco e gli dico guarda se fai uscire numeri top ce n'è anche riformula un attimo la domanda riformula la domanda perché non così scritta così non la capiamo secondo me è come si fanno gli incrementi con i dadi cioè qual è la task resolution di allora si guardano le proprie abilità si lanciano un tot di dadi è perché è così abilità si lanciano un tot di dadi in base alle abilità che ha il personaggio di 10 ovviamente e a quel punto lì si fanno le sommette in base a quanti decine hai fatto puoi sommare due dadi poi un dado che ha zero fa 10 ovviamente e quindi hai 10 un 1 è un 9 un 3 un 3 un 3 un 4 un 3 i dadi possono esplodere ci sono veramente molti modi per fare incrementi che c'è? facciamo esplodere i dadi un giorno lo laggi ma letteralmente si mi sembra molto molto sapete che c'è la pulizione dei dadi lo sai? c'è un petardo a forma di dado no però c'è la persona che quando hanno dei dadi di merda mettono in freezer e poi c'è l'esecuzione dei dadi messi su un tagliere il dado è congelato e viene un martello il dado è esplode ma scusa non esplode anche se non è congelato no ed è in raising un casino quindi la prossima cosa che si verrà fatta nella prossima stagione è rompere qualcosa in testa Matt rompere una bottiglia rompere una bottiglia in testa John Do io ti prego non voglio troppo fare questa cosa si di zucchero si di vetro di vetro di vetro ma certo io mi dissocio dalla violenza fisica contro Matt solo psicologica senza che non si sappia non ci alziamo ah grazie ah grazie allora poi sbagliamo poi io mi farò così si me le scambi dite una cosa e lo ammazzo no terribile bellissimo signori ci dissociamo è una gag è una gag una burla e l'altra è per esplodere i dadi non vuoi mettere in congelato i dadi si si adesso lo facciamo stiamo giocando così da allora e questo esplode tiro fuori il martello ah no facciamo un buchino con il trapano ci mettiamo dentro un petardo lo lanciamo lì in mezzo ma a me sembra un'idea molto pericolosa ci mettiamo gli occhialoni ma andiamo avanti visto il recente caso di Kalia al posto di Kaila perché Kalia la chiamano? non ti risponderò nemmeno qual è stato l'errore di scrittura del nome di un PG che ti fa più ridere? per me l'errore su Kenshin mi fa spisciare Kenshin io ancora l'ho chiamato Kenshin ma povero beh lui allora il PG di Roberto ma chi lo chi? scusa eh ma questo che pensi ma perché l'hai chiamato Kenshin? eh perché Genshin? perché l'odio quindi anch'io c'è tipo il Vietnam così ma no io odiavo Genshin si scrive Kenshin si legge pezzo di merda! io non c'è Leroy Kenshin 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 samurai vagabondo l'eroe Kenshin dicono anche Liiirooi Kenshin Liiirooi Kenshin Venico Gabbianottero di Gabbianottero è molto semplice ovvero dove c'è cibo io sto lui ha visto che con noi comunque qualcosina mangia e quindi lui con noi sta vorrei ricordarti che gli dai da mangiare più una volta alla settimana perché te lo dimentichi quindi c'è mettergli dava John Dolly da da mangiare ogni giorno quindi ogni giorno beve schifo puro e quindi la sua mente è veramente molto semplice poi se prova ad allontanarsi a scapparsi lo riprendo non c'è nulla da dire C'è Fubuki Caro Miguel che prova una teoria cioè prova che porta alla nostra attenzione un'ipotetica teoria potrebbe essere un gigantesco cumule nembo che ovviamente noi sappiamo benissimo che cos'è cumulo nembo da qui verso della canzone velenere il colore della nuvola tempesta ciò che crea morte ciò che succede a chi ci capita dentro allora ok nell'immaginario piratesco guarda che sta googolando cumulo nembo poi farò un sta googolando cumulo nembo i cumulo nembi sono le nuvole le avete viste un sacco di volte i cumulo nembi sono le nuvole quelle che minacciano tempesta insomma allora nella nell'immaginario piratesco e Navigavia non è esente da questo il fatto di creare leggende su cose che sono successe è normale ma succede anche nel nostro mondo pensate al triangolo delle bermuda oppure alla fossa delle marianne di cui si raccontano storie o la fossa delle bermuda o il triangolo delle marianne il triangolo delle marianne è un po' diverso però Luca va bene ma quello è è un po' diverso quindi in realtà la Queen Storm altro non è che una la tempesta perfetta o meglio questo racconta la leggenda è una tempesta perfetta ma nel corso del tempo la gente i pirati le storie di le canzoni degli Shanti l'hanno fatta diventare una vera e propria nave pirata indistruttibile anche perché ovviamente non si può non si può fermare il vento non si può fermare una tempesta sicuramente non può una barca quindi la avevo messo anche una sorta di indizio nel video che avevo fatto lo trovate sul canale se guardate il video il video è tutto un pochino allucinogeno perché quando ti trovi ho immaginato almeno quando ti trovi di fronte a una tempesta del genere non ti caghi talmente tanto addosso che cominci a a non avere più la lucidità e quindi è normale che se per caso qualcuno nel corso della storia si è salvato dall'incontrare la tempesta la Queen Storm quindi la regina delle tempeste quello che ricorda non è di aver incontrato un non racconterà di aver di essere sopravvissuto a una tempesta ma di aver combattuto contro una nave inaffondabile questa era l'idea che c'era dietro comunque mi sa che un giorno farò una storia un video in cui racconto la storia della Queen Storm in cui Limerick Vans Cricket la racconta beh certo sì io chi cazzo sono lo parti anche con il area sulla quarta corta con il fatto di odio propongo per questi episodi di Limerick Vans Cricket insegna cose di utilizzare l'applicazione quella per per fakeare fare il fake delle facce e mettere la faccia di Lucio Dalla sul volto di Miguel mi sembra più che corretto mi piace va bene quindi in realtà esiste il codice dei pirati scritto da Blackbird esiste anche in Navigavia sì ma non l'ho ancora portato in campagna quindi arriverà il momento in cui non ci sono i pirati in Navigavia in che lingue dobbiamo dirglielo no ci sono i pirati tu non sei un pirata ma neanche loro sono i pirati no neanche loro sono ma esistono i pirati in generale noi non siamo pirati che sia chiaro a tutti no no non ancora no no Nicola non ascoltare Nicolai Calia Nicolai Calia io ogni volta ti chiamerò Nicolai infatti dopo lo dicono gli altri come dicono Calia e non dicono Calia ma io per tipo sette puntate secondo me fosse Calia quindi c'è nel senso in uno degli episodi scorsi te lo chiedo genuinamente se era Nicola o se era Oliai in che senso ma è il momento marchetta molto liviai molto liviai è arrivato il momento marchetta è arrivato il momento marchetta questo? è il momento marchetta è anche quello quale delle tante marchette c'è il Nord c'è ancora? è lo sponsor Luca visto che oggi non l'abbiamo ancora fatto è vero è vero è vero è apparso un po' di volte l'avete visto qua in basso a destra giusto? si esatto come poi potete notare evitareما è IR quindi l' بن è uscito Nord VPN io vi ricordo che Nord VPN non, non affatto... Silenzioso non è così fastidioso non è così fastidioso come il fatto di non poter vedere alcune cose, ad esempio io l'altro giorno volevo vedere con Enrico che me l'aveva chiesto lui Lego Batman e non c'è più su Netflix Italia, quindi utilizzando NordVPN avrei potuto andare su un altro server internazionale e recuperare Lego Batman su Netflix ho scoperto una cosa incredibile me l'hanno detta, questa qui non l'ho mai detta su NordVPN ok sul Netflix giapponese voi potete guardare Vinland Saga in italiano ok bene ok ma perché caricano l'italiano sul giapponese? perché tutti i Netflix quando hanno delle serie le caricano in tutte le lingue sugli altri esatto quindi cosa aspettate ancora? se fosse One Piece su Netflix in Giappone c'è, è diviso che c'è il doppiaggio in italiano, in Italia non c'è, in Giappone ci sarebbe quel doppiaggio italiano io ho scoperto questa cosa ed è stato assurdo c'è il tuo doppiaggio, hai detto Villand? hai detto qualcosa? no 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 però non lo sapevo non lo sapevo è per questo che ti dico non lo sapevo non sapevo che Villand Saga fosse stato doppiato in italiano ora lo so grazie a NordVPN lo potete vedere in italiano sul Netflix giapponese esatto, e Guine dice Villand Saga è un anime della Madonna quindi approfittatene è stato bellissimo quando eri in Giappone avevo salvato la sera con Silvia magari quando eravamo un pochettino stanchi ci guardavamo un sacco di le 10 e mezzo, 11 in caso con la Mega TV un sacco di anime facciamo un cazzo salviamoci tutta sta roba non avevamo degli anime fighissimi se arrivate in Italia non c'è più un cazzo perché lo gioca in te certo io infatti mi sono visto all'epoca Voltron quello che c'è di Netflix prima ancora che uscisse in Italia quando sono stato a fare un viaggio con Chiara in Francia guarda ma che male che ci è rimasto è presa assassina assassina, si uccide un anime ma nel frattempo nel frattempo ovviamente vi ricordiamo che sono anche aperti sono aperti cosa? stavo dicendo stavo dicendo sono aperti i preordini del gioco in scatola di Luxastra è arrivato piu 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 poi nel frattempo avviso già Matt Matt tranquillo tra pochino chiudiamo puoi andare a far partire la tua live non si sto cacciando ovviamente ti avviso ma allora vi saluto, approfitto vi saluto così vi saluto, vi ringrazio vi ringrazio qualcosa che non sono yogurt ciao ragazzi ciao metto ciao metto allora per chi c'era a Modena e in questo tavolo c'eravamo tutti Miguel non è a questo tavolo quindi non c'era Voltron se lo ricorda adesso le viaggi di nozze no va bene ma Chiara Voltron Voltron carino e parte che non era il viaggio di nozze perché siamo andati a Malta Chiara qua mi hai fatto un errore però non era il viaggio di nozze con chi si è andata in Francia a vedere Voltron ma torniamo a noi chi c'era a Modena ha avuto modo di provare con mano, mano sudaticcia perché faceva davvero veramente caldo il gioco in scatola in versione non definitiva di Luxastra vi ricordo ovviamente che ci sono stati una decina di tavoli che erano sempre strapieni ragazzi vi ringraziamo infinitamente per tutte le code che avete fatto anche solo per vedere noi e vedere il gioco in scatola ragazzi abbiamo ricevuto un sacco di feedback ovviamente per migliorare non mi dissocio no sto facendo sei tipo la tizia negli aerei che ti spiega le cosine solo che non c'è niente da spiegare a proposito di tizia degli aerei vendetelo in aereo versione compatta tu sei allora tu pensa alla figata piuttosto facciamo la no tu devi andare in America no? ti propongo sempre o orologi a parte che è bellissimo leggere i profumi i profumi e gli orologi allora mi chiedo chi cazzo compra un orologio a un profumo in aereo? ora ti spiego perché la gente compra i profumi e gli orologi in aereo perché costano molto meno sono sempre in sconto perché sono duty free sì ma compri compri duty free esatto no in aeroporto costano di più se tu li prendi letteralmente sull'aereo perché sulla terra di nessuno è vero se sei in aereo le tasse a chi che paese le paghi? grande Nico fatturiamo in aereo facciamo fatture in aereo need fly need fly apriamo una ma torniamo a noi in un secondo vola viaggia vola rispondiamo a un povero vabbè fatta vola viaggia vola ragazzo o ragazza non lo so si 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 dicevo rispondiamo a un povero ragazzo o ragazza che ha fatto questa domanda 16 volte poverino non ha ancora ricevuto risposta quindi un mio caro amico e master del gruppo tra qualche mese compierà gli anni vi chiedo qualche consiglio per un regalo carino per un master che ama fare ma regalagli l'abbonamento di incarnate ma è quello che volevo dire anch'io visto che lo stiamo hai visto l'episodio vedi alcune mappe navigavi sto usando incarnate per le mappe quindi esattamente quello sono molto utili e si possono tranquillamente convertire in vari formati ultra hd 4k 8k stampare quel cavolo che vuoi e ti assicuro che l'abbonamento non costa neanche tanto non ricordo quant'è ma incarnate si chiama e è molto interessante Malta era in mini viaggio scusa continuo con mia moglie a Malta era in mini viaggio dicembre in feancia ho assoluto il Giappone come viaggio di nozze in Giappone perché non potevo prendere l'aereo ma tu stai scherzando cioè tu non ti ricordi il viaggio di nozze ma sarà l'aereo intanto è bantapudu non basta cos'è questo è il correttore chiaramente cioè Chiara io gli faccio il culo io dopo non andiamo a fare no allora quello che dice lei è corretto ma non era considerato viaggio di nozze perché è lavoro dopo si ce l'ho di lavoro dopo qua dentro c'è un'arma ma cosa stai dicendo ma no con un gigante Mr. Kremis dice che le tasse sono basate sulla bandiera che porta quell'aereo hai capito? si quindi dobbiamo trovare un aereo che batte bandiera panamense e non è un problema e andiamo a fatturare lì dentro su qua non è un problema c'è un mio amico che ha aperto un po' di azienda a Panama quindi perfetto e Tabrenzi fa anche servizio di voli privati panamense perfetto in serio Giovanni prepara d'accordo mia moglie dice cosa ma non so di che cosa quindi signori Matt è in live se Matt è in live io preparerei il raidino verso Matt visto che dovrebbe essere pronto vorrevo fare una domanda a Miguel e poi andare avanti no no ha una domanda così rispondi grazie andiamo avanti pronto? non ho capito niente volevo stunnarlo volevo solo stunnarlo vedo che è un po' confuso quindi ho ottenuto il risultato migliore grazie Guine hai già capito perfettamente qual è il mio problema signori io vi ringrazio infinitamente per essere stati qua con noi nel pre e anche nel post show di Navigave episodio 13 nella bocca del polpolupo sappiamo quanti si può dire quanti episodi sono in totale o non 16 16 l'abbiamo già annunciato all'inizio pensavo 17 poi li ho scombinati un po' e sono arrivati a 16 che c'è? che è? se non fa non mi ricordo gli altri tre episodi cioè se mi ricordo il prossimo non mi ricordo gli ultimi due se vuoi te li dico però rovinerei la sua propria infatti no mi li guardo c'è non è problema c'è il link nel gruppo infatti infatti non mi manca gli ultimi due basta povero Pasquale bestia mi sta facendo vedere i suoi animali io sto facendo vedere il mio ah già è vero adesso faccio vedere il mio bello allora io faccio partire faccio partire faccio partire il ride basta andatevene mi raccomando grazie mille per esserti qua con noi vi ricordo che per l'appunto salutate Matt con l'hashtag freerunei no fatelo triggerare Olivia ha sempre ragione così lo trigger che riforta però Olivia ti ha rotto the coffee break signori ciao a tutti grazie per essere con noi un bacione tante care cose ciao 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 raga ciao ciao